Benvenuti alla presentazione del nuovo catalogo 2017 della Webster's Pages. Allora, una piccola premessa, questo appunto è un catalogo che vi faccio vedere in anteprima e per cui possiamo vedere soltanto le foto appunto presenti in questo catalogo e nell'info box qui sotto troverete i prezzi dei prodotti ordinabili e dopodiché appunto potrete ordinarmeli in tutte le modalità che vi scrivo appunto qua sotto nell'info box e scrivendomi appunto quale agenda, di quale colore, di quale dimensione preferite e dopodiché appunto troverete tutte le informazioni qua sotto per cui questo video serve solo per farvi vedere in modo ben chiaro appunto quali sono i prodotti e i vari colori. Allora, qua ci sono le solite carte e qua iniziamo con i planner. Allora, la novità 2017 è questo nuovo tipo di planner che è appunto a metà tra un'agenda e un travel in quanto appunto abbiamo soltanto la copertina esterna ma come vedete senza gli anelli, senza elastici, senza nulla. Abbiamo solo una copertina sempre in similpelle con delle taschine al cui interno possiamo inserire tutto ciò che vogliamo, biglietti, posti eccetera e in particolare uno o più quaderni che appunto vanno a essere tenuti fermi grazie a queste taschine. Quindi questo qua si chiama Composition Planner ed è appunto presente, allora ho in questa colorazione Light Teal quindi siamo sempre sull'azzurro Tiffany e dovrebbe essere in formato A5 se non erro poi sempre in formato A5 sempre il Composition Planner ce l'abbiamo anche con questo colore bianco e basta perché poi iniziamo con i planner veri e propri quindi i classici che conosciamo quindi i classici color Crash con appunto la rilegatura ad anelli dorati allora qua abbiamo subito in questa pagina i nuovissimi colori per il 2017 per cui in particolare abbiamo il questo qua in blu con le rose rosa e all'interno è bianco poi abbiamo il color champagne che non è una novità però viene spesso riproposto da tutte le marche e è sempre all'interno è bianco intanto qua a sinistra avete anche i vari divisori che ci sono per ogni planner e poi abbiamo ancora questo planner azzurro con le righe in foil dorato e all'interno è sempre bianco e poi ancora abbiamo questo qua Pretty Pink sempre appunto con gli anelli dorati e all'interno è rosa e questo ricorda molto il ballerina della Carpe Dieme ogni planner di questi qua in formato A5 ma in generale è possibile acquistarlo e prenotarlo sia con il kit quindi con all'interno già le pagine dell'agenda i divisori e tutto quanto sia soltanto nella versione binder quindi proprio solo copertina con rilegatura con meccanismo ad anelli quindi appunto nel caso appunto vogliate preordinare uno di questi planner dovete dirmi sia il colore sia la dimensione e sia se lo volete con il kit oppure senza kit i colori dell'A5 nuovi sono questi e poi proseguiamo con un altro nuovissimo colore sempre del formato A5 che è questo Sedona che è questo arancione scuro anche questo ricorda molto il colore che era uscito nella collezione dell'anno scorso della Carpe Dio poi abbiamo il Navi che è questo blue jeans scuro all'interno sono sempre bianchi poi abbiamo il Jade che invece è un bell'azzurro proprio bello acceso e all'interno è bianco e poi abbiamo dei colori che sono andati molto bene l'anno scorso e che quindi li ripropongono anche per il 2017 in particolare il Blush Dot quindi che era questo rosino chiaro con i puoi in foil dorato poi ritroviamo anche il Rose Gold anche questo che era molto bello con questa copertina un po' olografica rosa e all'interno appunto rosa il Mint quindi questo classico color Tiffany il Natural che era quel colore bianco panna e il Walnut che era il colore nocciola e che all'interno era rosa poi proseguiamo con gli ultimi colori usciti proprio alla fine del 2016 che erano quindi il Mint Floral quindi questo appunto verde menta con le rose rosa e questo qua in particolare sta per arrivare arriverà prima nei prossimi giorni tra una o due settimane perché appunto questo ho avuto la possibilità già di ordinarlo quindi questo sta per arrivare poi il Pervincol e il Fucsia e il Green erano quei colori appunto usciti a ottobre 2016 e sono appunto ancora ordinabili quindi anche qua in formato A5 sia versione kit che versione solo binder concludiamo con il Classic White quindi proprio il bianco bianco e il Light Teal quindi questo colore che si ripete un po' in tutte le sfumature ok poi passiamo ai planner personal anche in questo caso i colori sono gli stessi soltanto che le dimensioni sono un po' più piccole anche in questo caso sono disponibili sia in formato kit quindi con tutte le pagine dell'agenda tutti i divisori tutto quanto sia in formato solo binder quindi anche in questo caso dovrete dirmi di che colore di che dimensione e che cosa volete all'interno allora abbiamo quindi i soliti colori che abbiamo già visto prima quindi li vediamo velocemente il blu con le rosa il color champagne il color blu gold stripe il pretty pink il sedona il navy il jade il blush dot vi consiglio piuttosto di fermare il video sulla pagina che vi interessa in modo che potete vedere anche i divisori bene quali vi possono interessare poi abbiamo il blush stripe quindi questo qua anche questo vale lo stesso discorso di quello mint floral questo anche sta per arrivare arriverà nei prossimi giorni poi il per vincolo il fucsia e il green ripropongono poi anche lo yellow quindi il giallo e il walnut e poi il gold quindi questi erano i colori appunto quelli ancora un pochino più vecchi però il calendario del 2017 qua sotto è disponibile già in negozio a chi dovesse servire poi poi proseguiamo con i traveler anche i traveler sono ordinabili appunto su preordine e quindi abbiamo il navy floral all'interno hanno tutti un quaderno copertina carta craft e pagine bianche allora abbiamo il navy floral quindi questo blu con le rose con le rose lo champagne il blue gold stripe il pretty pink e questi appunto sono i colori nuovi sempre nuovo abbiamo il sedona abbiamo il navy il jade e poi dall'anno scorso ripropongono il natural il mint floral il blush stripe anche questi due queste due colorazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni poi ritroviamo il pervincolo il fucsia e il green ok quindi vedete che hanno tolto alcuni colori quindi ad esempio il travel walnut non c'è più e anche quelli quelli dell'anno scorso insomma poi che cosa abbiamo di nuovo allora questi erano i prodotti ordinabili questi che vedete da adesso in poi sono prodotti che fanno parte di questa nuova collezione e che troverete tranquillamente in negozio non c'è bisogno di preordinarli in particolare che cosa abbiamo gli inserti per il composition planner quindi questi quaderni appunto dovrebbero essere in formato a 5 quindi per questo planner nuovo di quest'anno e gli inserti li troviamo quaderno a righe il primo questo qua con i fiori è un quadernino dotted quindi con i pallini classico per il bullet journal questo qua con i cuori in foil dorato e copertina rosa che sarà appunto proprio un'agenda dei tracker e poi un calendario non datato questo qua a righe bianche e menta e poi quaderni per il travel journal quindi che vanno bene come dimensione appunto per il travel abbiamo un kit da due quadernini a quadretti e a righe quest'altro kit con today e la cartina molto carino poi questo qua a fiori e questo qua a fiori e a righe all'interno sono tutti a righe e a quadretti e poi abbiamo anche questi kit anche questi arriveranno i kit per i planner li ha già fatti di swap loro anche li ripropongono sono molto carini con i timbri però questi li vedremo poi quando arriveranno effettivamente e anche una novità che arriverà saranno le pagine le pocket pages come quelle del project life però bucate in modo che possono essere inseriti nei vostri planner quindi con gli anelli sono appunto queste pagine trasparenti con le taschine ok perfetto quindi vi scriverò anche in questa pagina tutte le modalità per preordinare questi planner e quindi appunto scrivetemi c'è una una settimana di tempo dopodichè li ordinerò tempistiche le tempistiche con la webster's page sono sempre un po' un po' così perché di solito hanno sempre ritardi nella produzione è successo l'anno scorso i prodotti presentati a gennaio sono usciti a marzo ed è successo anche quest'estate in quanto i colori estivi sono usciti ad ottobre io ora spero che si siano un po' svegliati e che quindi questa collezione a noi arriverà circa per metà per febbraio spero ok quindi io adesso vi saluto e aspetto i vostri ordini ciao ciao